All'età di otto anni si trasferisce con la famiglia dal paese natale, Casasco d'Intelvi, a Milano, cui rimarrà a lungo legato e che vivrà fino in fondo assieme a tutti i fermenti che negli anni della sua formazione ne hanno caratterizzato la realtà. Agli studi scolastici Marco alterna quelli musicali, approfondendo e sviluppando un talento naturale che era maturato molto presto. Studia canto e armonia e suona la chitarra. La musica, nei suoi anni giovanili, era quella delle cantine, delle prime band di fortuna e Marco attraversa con entusiasmo tutte queste esperienze prima di A prodare ai primi impegni professionali nella scena del nascente pop rock italiano assieme a Formazioni come i Balordi e la drogheria Solferino Nel frattempo lavora come turnista in sala di incisione divenendo ben presto un corista molto Ricercato, lavorando tra gli altri anche con Lucio Dallemmina Partecipa attivamente anche nel famoso gruppo vocale dei 4 più 4 di Nora Orlandi Inoltre è sua la voce che si è ascoltata in famosi jingles e pubblicitari radiofonici e di popolari Spot televisivi È nei cori di popolari sigle come Ufo Robo e Capitan Arlok Mentre è la voce principale della Principessa Sapphire Sotto la regia di Vince Tempera e la ballata di Tex Willer Insieme a Silver Pozzoli Pubblicati utilizzando degli pseudonimi Frequentando assiduamente l'ambiente musicale milanese a occasione di fare incontri che diverranno Fondamentali per la sua futura carriera Uno fra tutti Alessandro Colombini che sarà a lungo suo produttore Dopo una breve militanza nel gruppo di musica popolare Yu Kung come bassista e l'enorme Maria Dell'amico Simon Luca Marco è pronto per l'esordio da solista come cantautore Che avviene ufficialmente al Festival di Sanremo 1978 con il brano Quando Teresa Verrà Singolo cui fa immediatamente seguito un album dallo stesso titolo Nel suo primo lavoro da solista Marco presenta canzoni molto personali sia come struttura melodica Che come testi Caratterizzate da tematiche di convincente attualità espresse in modo diretto e personale Per quanto innegabilmente acerbo ma soprattutto faceva apprezzare dal pubblico la cifra del suo Stile canoro In seguito nella vita professionale e privata di Marco si verifica un altro incontro fondamentale Con Herbert Pagani Inizia un collaborazione prolifica e positiva che ancora oggi Marco considera fondamentale Il primo passo di questa collaborazione è la composizione delle musiche di un album e di uno Spettacolo teatrale Dopo l'album di esordio Che aveva ottenuto un buon riconoscimento di critica e pubblico Nel 1981 pubblica Teorema Contenuto nel Q-disc Schiavo senza catene Ottimamente accolto dal pubblico e dalle radio che trasmettono massicciamente i brani di Ferradini Nello stesso anno partecipa a un tour con Ron e al Festival Bar 1981 Nonostante i successi come cantautore e solista Marco continua a lavorare in sala d'incisione e a partecipare Sempre come corista Ai concerti di altri artisti come Patti Bravo Ron Umberto Tozzi Questo desiderio si concretizza in una delle prime esperienze italiane di collaborazione di più Artisti Il Q-disc inciso insieme a Mario Castelnuovo e Goran Cozminac Coordinati da Amedeo Minghi Che contiene fra gli altri il brano Oltre il Giardino Rielaborato dalla ciaccona di Bach Insieme ai suoi compagni di viaggio Ferradini si esibisce in concerti di impostazione davvero nuova per quegli anni Un tour caserme aperte Promosso dal ministro della difesa Lelio Lagorio Per la prima volta le caserme militari venivano aperte ai civili per assistere ai concerti Al tour fa seguito l'uscita del Q-disc intitolato Q-concert Nel 1983 Marco è di nuovo sul palco di Sanremo e presenta una catastrofe bionda scritta con la Collaborazione di Mogol Renzo Zenobi e Herbert Pagani E l'omonimo album è un indubbio successo Trainato in parte dal brano Loop solitario DJ Che negli anni diventa un vero e proprio pezzo cult per le radio e i DJ di tutta Italia Ai quali è dedicato Nel 1985 è la volta dell'album Misteri della Vita Un concept album costruito attorno al tema della musica ma anche al mistero della nascita della Figlia Marta Costruito sul tema della musica come compagna di vita In cui l'amicizia e i rapporti affettivi sono il filo conduttore che lega le canzoni Nel 1986 esce Marco Ferradini Un album che si discosta dai precedenti soprattutto per le sonorità più blues rock e per una certa Ironia che lo pervade Tra i brani contenuti spiccano Mario dedicata a tutti quelli che vorrebbero fare musica ma si Ritrovano otto ore alla scrivania e forse non lo sai una riflessione sulla spiritualità Nel 1990 pubblica è bello avere un amico Un album nato da un lungo periodo di silenzio e di ricerca Gli arrangiamenti sono di Maurizio Tirelli e lo stesso Ferradini Tra i brani spiccano Ironi che racconta l'amicizia tra i maschi Lasciami stare così Un brano fortemente intimista e acqua Nel 1992 esce per la Ricordi una raccolta dal titolo Ricomincio da Teorema che contiene i brani più significativi dell'ormai lunga carriera musicale di Marco Ferradini Nell'estate dello stesso anno partecipa al Cantagiro Il 1995 è l'anno del ritorno di Marco con un nuovo album In cui ritorna allo stile naif degli esordi L'album è diviso in due parti La prima contiene brani che privilegiano temi legati al sociale Mentre nella seconda ricco di ballate Dolce piccolo mio fiore Interamente acustico Nato per voce chitarra Suonato e arrangiato dallo stesso Marco che contiene dieci brani inediti tra cui un letto in riva Al mare Scritto insieme al compianto amico e compagno di viaggio Herbert Pagani L'album è stato realizzato completamente a casa dell'artista e poi mixato in uno studio Tra i collaboratori Massimo Luca le chitarre acustiche Fabio Treves all'armonica a bocca Nel 1998 esce per le edizioni Cabianca il singolo con aria sul ponte di Messina Prodotto da Osvaldo Miciche, Enrico Santulli e Gianni Tirelli Sempre nel 1998 esce per la edizioni Cabianca e vento il singolo con teorema Prodotto da Osvaldo Miciche in quattro versioni Battuto in tutte le radio e tv Nel 2000 Aldo Giovanni e Giacomo nel loro film Chiedimi se sono felice scelgono teorema come parte della colonna Sonora Riportando attenzione e interesse nei confronti di Marco e della sua musica Nel 2001 esce per le edizioni Cabianca geometrie del cuore Album prodotto da Osvaldo Miciche, Enrico Santulli e Gianni Tirelli Di brani inediti tra i quali spiccano la nuova versione di Teorema e alla ricerca di un sogno Insieme al brano Amici Nell'estate dello stesso anno è tra i protagonisti del programma musicale La Notte Vola Condotto dall'Orella Cuccarini, dove insieme ad altri colleghi Partecipa ad una competizione canora tra i brani più noti degli anni 80 Nel 2005 un filo rosso Raccolta di 15 canzoni tra le quali 5 inediti La title track è un brano di forte intensità emotiva che Marco ha dedicato alla madre scomparsa e A quel filo rosso che unisce e muove corde profonde Nel 2007 Ferradini coinvolge Simon Luca e Ricky Belloni Nel progetto Sessantitali, una serie di concerti totalmente acustici Chitarre e voci, su un repertorio rivisitato di brani di West Coast and Country Da diversi anni insegna musica presso l'Istituto Superiore Statale Martin Luther King di Mugio in Provincia di Monza Continuando le esibizioni live con la sua band in formazione acustica o elettrica in tutta Italia E' partecipato a diverse trasmissioni televisive numerose manifestazioni tra cui Parola Cantata, Musicultura, Premio Bindi, Premio Ciampi, Premio Lunezia e Premio Pigro 2012 Negli ultimi anni Marco è impegnato nella promozione di un progetto a cui tiene molto Un doppio CD intitolato La mia generazione Dedicato a rivalutare e ricordare l'artista e amico Herbert Pagani Per l'occasione si è avvalso della collaborazione di alcuni amici cantautori come Ron Eugenio Finardi, Fabio Concato, Alberto Fortis, Andrea Mirò, Siria, Fabio Treves, Flavio Oreglio, Scela Shapiro, Mauro Ermanno Giovanardi, Gloria Nuti, Simon Luca, 21 brani re incisi e un inedito Stelle negli oroscopi, brano che racconta gioie e difficoltà del creare una canzone Il progetto prevede anche la realizzazione di uno spettacolo teatrale con la collaborazione di Osè Orlando Luciano, Fisarmonica e Pianoforte, il violinista Simone Rossetti Bazzaro, la voce di Charlotte Ferradini, le attrici Anna Iencek e Caroline Pagani Nel 2014 pubblica due singoli disponibili su iTunes, due splendidi papà, in duetto con Gianni Bella Ed Attimi Ed Attimi